È stata un'attività importante, coordinata in questo caso dalla Procura dei Minori di Venezia e la valutazione è stata fatta dal GIP presso la Procura dei Minori. Un'attività importante da un punto di vista sia investigativo che della risposta ad un allarme che evidentemente si era creato perché le vittime dei gravi episodi delituosi sono tutti ragazzi non solo minorenni ma giovanissimi, parliamo di ragazzi che hanno 14, 15, 16 anni i quali venivano adocchiati e successivamente rapinati dai due soggetti che noi abbiamo tratto in arresto nel momento in cui venivano notati essere in possesso di cellulari che erano oggetto del desiderio parliamo di cellulari di un certo costo che sono particolarmente di moda in questo periodo. Si tratta di azioni connotate da una certa violenza sia caratterizzate dall'uso di coltellini o di forza fisica nel momento in cui fanno cascare dalla bici uno dei ragazzi per sottrargli il telefonino e provocando in quel caso delle lesioni personali e in altre circostanze vengono proferite delle minacce gravi soprattutto se valutiamo che sono indirizzate a dei ragazzini. Per quanto concerne questo tipo di reati riteniamo che abbiamo concluso, abbiamo chiuso il cerchio raccogliendo tutti gli elementi di prova che sono stati poi valutati positivamente sia dalla Procura della Repubblica per Simeorenni che dal GIP.